Da ben dieci anni, 20 alloggi popolari di Via Mercato dei Fiori nel quartiere Talafuni sono in uno stato di totale abbandono a causa delle scelte fatte dalla regione siciliana di non elargire le somme necessarie per renderli agibili e di conseguenza permettere a parecchie famiglie disagiate di Vittoria di potervi abitare. A denunciare lo Stato delle Cose, il consigliere provinciale del PDL Ignazio Nicosia che alla denuncia di abbandono da parte del governo regionale contrappone l'intervento positivo, anche se tardivo, dell'Istituto Autonomo e Case Popolari di Ragusa. Il complesso è in questione, una struttura edilizia, sita in via Mercato dei Fiori, composto da 20 alloggi popolari. Struttura rimasta ferma, pare per inerzia della regione sicilia che è destinato ad altro le somme da autorizzare per completare la struttura. Questo è un esempio di struttura lasciata, abbandonata a se stessa da parte della regione siciliana che nel 2008, all'insediamento del governatore Lombardo, avevano annunciato una spesa di circa 100 milioni di euro indirizzato tutto verso l'edilizia popolare. Da allora non è successo niente, anzi quello che era già stato iniziato è rimasto incompleto. Questi scheletri verranno completati dall'OIACP di Ragusa che hanno trovato le somme che sono dei residui dovuti a residui e alla vendita di alcune case popolari, per cui queste verranno completate dall'OIACP. La regione non metterà una lira anche perché lo ha deciso. Per quanto riguarda il resto, quello che verrà dopo, con questa legge social housing si dovrà intervenire pubblico e privato. Il pubblico dovrà mettere una parte, il privato un'altra parte e non saranno più assegnati gli alloggi popolari a persone indigenti che non hanno la possibilità ma a persone che potranno acquistare la casa.